Di stare molto a discutere, gentile, aggressivo su Sinis, rischia di rubare la Sinis, latina in campo, poi va fuori da Della Valle, libero da 3, prende la bomba Amedeo, bombare, Amedeo si butta fino in fondo, va su, prende un bel tiro, segna lo scadere con questa volta un ottimo iniziativo. In questo sport stoppare non è esattamente, secondo me, l'idea migliore. Bravo, bravo Amedeo. Stacca forte, nuovo possesso, quindi offensivo per Reggio. Il tiro è Della Valle che ci sta provando, se non altro. Della Valle è Della Valle, Della Valle.